Cosa succede, Vashi? Da dove arriva questa tempesta? Tieni giù la testa, sciocco! Qualcosa di terribile si sta avvicinando. Ecco lo sciocco, bastardo. Non sei riuscito a distruggere il trono viaggiato come ti avevo ordinato. Pensavi davvero di sfuggirmi nascondendoti in questo luogo putrido? Mi facevo più fumo, Illidan. Gil-Jethen, si è trattato solo di uno stallo momentaneo. Stavo cercando di potenziare le mie forze. Il re dei Lice sarà distrutto. È una promessa. Davvero? Questi tuoi servi mi sembrano dotati di buona capacità. Ti darò un'ultima possibilità, Illidan. Distruggi il trono viaggiato o dovrai affrontare la mia ira eterna. Probabilmente nascondersi non è stata la mossa più saggia. Abbiamo una missione da compiere. Mi seguirete fino al gelido cuore della morte? Gli naga sono pronti a obbedire ai tuoi ordini, Lord Illidan. Ti seguiremo dovunque andrai. Anche gli elfi del sangue sono tuoi, padrone. Scacceremo il flagello e distruggeremo il trono ghiacciato. Come comandi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.